Ciao ragazzi, oggi voglio mostrarvi che una parte dell'esercizio che chiamiamo Traccheggio, fatto di cambiamenti e trasporti, è universale e può essere usata con tutti i tipi di uomini. Iniziamo con la uomini di medium length. E' abbastanza facile. Ora sto cambiando e usando una scena corta, in questo caso, in mia opinione, dovremmo usare una scena corta con l'acqua in seconda o terza. Ora proviamo con una scena corta, una scena corta, che può essere guardata con l'acqua sulla scena corta. Ora proviamo con una scena corta, che può essere guardata con l'acqua in seconda oterza. Ora proviamo con una scena corta. Ora proviamo a una scena corta con l'acqua in seconda oterza, ma che fa il mio torso parte del sistema di movimento. In questo caso è meglio usare solo l'acqua di trasporto da scena corta con l'acqua in seconda oterza, perché non voglio fare un cambiamento di mano nella scena corta. Ora proviamo a una scena corta con l'acqua in seconda oterza, perché non voglio fare un'acqua in seconda oterza. Come potete vedere, potete usare l'acqua in seconda oterza per praticare l'acqua in seconda oterza. Il tracceggio è, con alcune azioni, una pratica universale. E se il tracceggio è universale, il punto di lavoro è anche universale. Grazie. 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 Grazie.